Oggi sei a Cassino, stai con me esattamente in zona San Bartolomeo. Stiamo all'interno di questo appartamento al piano terra e precisamente nella camera da letto. Vediamo subito le potenzialità di questo locale grazie a 360 gradi. Potete spostare con il dito sul cellulare o mouse in modalità computer per apprezzare tutte le potenzialità e la spaziosità. Vediamo subito in maniera molto veloce quello che è la camera con questo ampio letto l'armadio appoggiato sulla parete dietro le mie spalle. Io mi sposto per poter permettervi, grazie a 360, di poter girare quella che è l'immagine della vostra visualizzazione, della vostra esperienza di questo video. E quindi sulla destra troverete quello che è l'infisso che dà l'affaccio al terrazzino del piano terra. Per tutte le altre informazioni e per fissare un appuntamento sul posto vi rimando sul sito www.chalfikasa.it Ciao!